Il rapporto sessuale c'è stato ed è stato contro la volontà della donna. Sono queste le frasi più significative scritte nelle motivazioni con cui il GUP Fabio Frangini ha sentenziato la condanna a 4 anni e 8 mesi con rito abbreviato per l'ex appuntato dai carabinieri Marco Camuffo, accusato di aver abusato di una studentessa americana che denunciò il fatto assieme ad una sua connazionale nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze. Spiegando le ragioni che hanno portato a quel verdetto l'11 ottobre 2018, il giudice smonta quelle che definisce lui stesso delle dicerie. Una sentenza severa mi potevo aspettare anche di peggio in caso di una donna. La ragazza di 21 anni aveva bevuto troppo, al punto da non essere in grado di opporsi, mentre Camuffo avrebbe agito abusando della propria autorità dal momento che il fatto che il militare non si sia accorto dello stato di ebrezza della giovane è un falso, scrive il giudice, talmente evidente quanto ingenuo. Il GUP poi scrive, il collega Pietro Costa fa dichiarazioni che inchiodano Camuffo dicendo di aver sentito il no, 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 cosa fai della ragazza. Già Pietro Costa, il collega di pattuglia che ha adottato una strategia difensiva diversa, per lui infatti in quella stessa sede arrivò in rinvio a giudizio con le identiche accuse nei confronti di un'altra studentessa. Per lui il processo inizierà il 10 maggio 2019. Il caso è grosso a causa vostra e si sgonfierà nel dibattimento.